Umberto Boccioni è conosciuto in tutto il mondo, i suoi depinti si trovano al MoMA, a New York, a Parigi, al Centre Pompidou, era uno dei grandi protagonisti del movimento futurista. Prima comunque di diventare futurista, Boccioni, lavorando a Milano, faceva parte del movimento del divisionismo italiano, di cui è uno anche dei esponenti principali. Il Masi è molto felice di avere la più ampia collezione di opere importanti pre-futuriste di Boccioni. Boccioni